Salve a tutti, sono Matteo di Citra e ecco con noi Alessandro Messina La voce... chi tocchi come personaggio? Ale? Non me li ricordo, tu mi conosci meglio di voi Ok, io ti dico che gli tocchi il Tupper in Raffa Spagadotto e il Mastino in Doltroni Spale Anche Virgin Liver! Virgin Liver! Ma su cui quale cominci da un'altra cosa? Se vuoi! Allora, vuoi fare un saluto a tutti gli amici di UW? Ciao a tutti gli amici di UW Un abbraccio a Matteo che è venuto a trovarmi a Catania Noi siamo a Catania! Non a Roma, a Milano, ma a Catania! Ciao a tutti!